Questo compito per paralizzare quello che è il compito, quello che è l'attività e la funzione di un componente del Governo, la stiamo sottoponendo ad un organo burocratico che poi, come si vedrà, sarà sottoposto a un baglio di tipo politico. I colleghi di Sinistra Italiana percepiscono questa difficoltà e propongono una complicanza non codificata che addirittura all'interno della stessa authority debba individuare dei soggetti diversi. Io su una sola cosa sono d'accordo ed è sul sorteggio, cioè nel senso che una volta individuate le professionalità il sorteggio sarebbe la corretta, come posso dire, impostazione per una reale terzietà nell'ambito di un compito così delicato. Però mi sembra che il rimedio possa essere peggiore del male e che in qualche modo, al di là del metodo di elezione, non si possa essere d'accordo con questo incremento di burocrazia all'interno di un provvedimento che io trovo già inaccettabile. Voteremo contro. La ringrazio. Civati, onorevole Civati. Per confortare l'onorevole Sisto, che il garbo dell'onorevole Quaranta è anche sostanza, una proposta che sottoscriviamo, molto equilibrata, molto saggia, che dà uno strumento in più all'autority per funzionare rispetto a un tema che tutti diciamo è essere così decisivo e importante per la vita democratica del nostro Paese. Grazie. La ringrazio. Non ho altri interventi. Lo pongo in votazione. C'è il parere contrario di Commissione e Governo. Parere contrario della Commissione, bilancio. Favorevole 5 Stelle e Sinistra Italiana. Contrario, Forza Italia. La votazione è aperta. Simonetti, De Lorenzis. De Lorenzis. Malpezzi. De Lorenzis non riesce. R山 isoprani. Fitzgerald. Groma. River. Romele. Pastorino. B cameras. Wow.